Siamo al telefono con Roberto Bacci della Fondazione Pontedera Teatro per raccontarci cosa sta accadendo a Collinaria. Pontedera Teatro in qualche modo è garante di qualità di Collinaria nelle sue ultime edizioni. Roberto Bacci, cosa può raccontarci di questi primi giorni all'Ari? Questi primi giorni sono l'inizio di un percorso che ogni anno si realizza e che questa settimana straordinaria, anche questo straordinario luogo che è l'Ari e i suoi dintorni. Abbiamo cominciato con Caposera e la banda della posta e naturalmente, ma questo era scontato, è stato un trionfo sia per qualità sia per partecipazione di pubblico e poi invece abbiamo iniziato il lavoro, vero e proprio con il teatro che per ora vede una grande partecipazione, non sappiamo dove mettere la gente perché poi i nuovi binari non è che siano enormi, però è sempre molto bello vederli pieni e vivi. Abbiamo cominciato con una serie di gruppi e di spettacoli dal Teatro Minimo che ha deputato con il guaritore che tra l'altro è una produzione anche di Ponte Vera e poi il lavoro di Loris Ghizzi su Pessoa nel zone del marinaio e la straordinaria presenza da un lato di Guarcento Tigre Toschi, da un lato di Thomas Richards e da un lato di Talullo Minasi, questi due simpatici, intelligenti, bravi interpreti siciliani del loro teatro. Tra l'altro l'esperienza di Rari dell'anno scorso ci ha permesso di fare due produzioni che saranno presentate, una è stata presentata appunto il guaritore del Teatro Minimo e l'altra è Thanks for Bachelina e la carrozzina Orfeo, un gruppo straordinario che tra l'altro sta lavorando in questi giorni qui a Ponte Vera per preparare la prima che sarà il giovedì 25 a Lari. Nel 2013 cosa significa proporre un festival non solo teatrale ma un festival che si occupa da delle arti, dalla musica al teatro, alle contaminazioni poetiche. Cosa possiamo trovare come comparazioni e differenze tra l'organizzazione e la proposta di un festival estivo di una durata di 10 giorni e una proposta permanente, annuale, come per esempio Ponte della Teatro fa da molto tempo? Lari è un luogo di concentrazione e quindi di moltiplicazione nel senso che le compagnie non è che vendono e fanno lo spettacolo come accade di solito in una stagione ma è come uno strumento moltiplicatore di incontri nel senso che quasi tutti gli artisti restano all'Ari tutta la settimana, ci si parla, ci si scambia, come dicevo prima si realizzano e si pensano progetti da fare anche nella stagione invernale, progetti collettivi oppure si pensa a produzioni o a produzioni possibili, cosa che del resto è nel nostro DNA come Ponte della e che siamo anche diciamo molto attenti ai giovani esperienze, ai giovani gruppi che aspettiamo nel nostro teatro anche per un periodo e quindi l'Ari per noi è uno strumento, uno strumento moltiplicatore in cui impariamo, in cui ci mettiamo anche a disposizione per il futuro, per il futuro prossimo ma anche per il futuro a lunga esperienza. Questa per me è una differenza importante perché mentre con Ponte dell'Europa in cui lavoro è finito all'aspetto teatrale, lì abbiamo i grandi maestri o i grandi, i giovani abitanti nazionali, la prossima faremo giovani registi provenienti da tutta Europa, però c'è un po' più che risorse, la dobbiamo fare con le piccole risorse che ci sono richiamando anche ad una, se vogliamo, responsabilità di crearci un festival, un festival all'aria è un festival che si crea, che si crea volta per volta attraverso la presenza degli artisti.